Salve a tutti, io sono Giorgia Martiello, ho 19 anni e vivo a Roma, in quanto sono studentessa del primo anno di Università del Dams, infatti studio cinema, televisione e novi media. Sono residente però a Sparanise, che è un piccolo paese in provincia di Caserta, ma mi sono trasferita appunto per inseguire questo mio grande sogno che mi porto dietro da un bel po' di anni, ma comunque se non dovessi riuscirci mi piacerebbe comunque lavorare in ambito televisivo, infatti ho scelto questa facoltà appunto per realizzare questo mio desiderio. Appartengo all'Agenzia La Cantera e ora rimestrerò i miei profili. E spero di vederci presto.